Ciao ragazzi, benvenuti su Cartisia. Oggi parleremo di una sorpresa d'amore per il vostro lui o la vostra lei semplicissima da realizzare. Se avete la fortuna di essere intonati, questo è un bel gesto d'amore, ma potete farlo anche se non siete intonati con una canzone facile da cantare. Registrate con la vostra voce una canzone, la vostra canzone, la colonna sonora del vostro amore oppure una canzone che parla di voi. Trasferite la registrazione in un cd, dopo un'uscita con il vostro lui o la vostra lei, senza farvi vedere, mettete il cd nella radio della sua macchina. Quando accenderà la radio per scottare musica, il cd partirà e sentirà la vostra canzone cantata proprio da voi. Alla fine della canzone potete lasciare anche un messaggio vocale. Spero che l'idea vi piace, vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!